In una settimana inizierà ufficialmente il primo campionato mondiale motoristico di una certa rilevanza, parliamo del campionato Superbike e come tradizione una settimana prima dell'inizio dei campionati che seguo sul mio canale al secolo Formula 1 Superbike e MotoGP andiamo a presentare quello che è calendario, piloti e dinamiche che andranno a svolgersi durante questa stagione. Partendo dalla Superbike 12 gare in calendario confermate rispetto allo scorso anno per un calendario che in realtà sarà decisamente più europeo, abbiamo soltanto infatti una tappa extraeuropea che quella che per tradizione in realtà apre il mondiale dell'arrivate dalla serie. Parliamo infatti di Phillip Island, si correrà esattamente dopo la settimana con la gara 1 il 24 di febbraio con il format oramai sdoganato con Superport Race e gara 2 ovviamente alla domenica. Per il resto si andrà avanti di fatto fino al 19-20 ottobre dove si concluderà il tutto a Jerez della frontiera. Avremo poi ulteriormente due round italiani, il primo è una grande classica, quello di Misano che appunto andrà a ospitare il quarto round del mondiale Superbike il 15-16 di giugno. C'è la grande novità di Cremona che per la prima volta invece ospita il mondiale Superbike. Il Cremonial Circuit è un tracciato che in realtà non è proprio a Cremona ma è a San Martino al Lago, una frazione che rispetto alla mia città cioè Parma è a tre quarti d'ora di strada, di fatto è un gran premio di casa per me. In conseguenza aspettatevi un vlog direttamente da Cremona, si correrà nel decimo round di 12 previsti il 21 e 22 settembre. Un'altra grande novità invece per quanto riguarda la Superbike e l'introduzione del circuito di Ungheria, anche qui ci sarà il gran premio come in Formula 1 ma non allungano ring bensì al nuovo Balaton Park Circuit che peraltro è anche di riserva rispetto alla MotoGP. Il Balaton Park è un circuito di 4 km di nuovissima concezione che è aperto esattamente a maggio del 2023 quindi proprio di nuova pacca, di nuova concezione e la Superbike di fatto lo inaugurerà con un campionato di un certo livello. Andiamo a vedere quelli che sono invece i piloti della categoria regina prima di poi addentrarsi nelle altre categorie, abbiamo 23 piloti ufficiali all'inizio di questa stagione ma anche in realtà un team che è il Kawasaki Team Pedercini che da quel che si è capito arriverà a correre soltanto le gare europee di fatto 11 su 12. Ovviamente l'uomo da battere è Alvaro Bautista che ha vinto due mondiali consecutivi in Superbike con la Ducati, è ovviamente il pilota di punta sulla quale Ducati ovviamente andrà a fare il free pit al netto che le regolamentazioni tecniche sono cambiate. Sappiamo infatti che da quest'anno in Superbike è stato introdotto il BMI ovvero il Body Max Index, di fatto il peso minimo di moto e pilota deve essere garantito, di conseguenza se un pilota è troppo leggero rispetto al peso minimo consentito verrà zavorrato. I test che sono stati svolti tra fine anno scorso e inizio di quest'anno hanno già implementato questa nuova regolamentazione e Bautista, va detto, ha fatto un pochino più di fatica. Comunque in ogni caso lo spagnolo è uno dei favoriti al titolo insieme agli altri big two di questa disciplina che sono Rasgatioglu e Rey che hanno cambiato squadra. Infatti topra Rasgatioglu è andato in BMW, una scelta che da un certo punto di vista può risultare controproducente in quanto sappiamo benissimo che la casa di Monaco non ha investito tantissimo nel corso degli anni se non per un grande motore ma i problemi di ciclistica hanno limitato evidentemente queste BMW 1000 RR che comunque ha un potenziale molto interessante. Sarà da capire quanto Rasgatioglu sia effettivamente un fenomeno nel maneggiare queste BMW qualora dovesse fare ottimi risultati e nei test qualcosa si è già visto, se invece anche Rasgatioglu farà difficoltà è evidente come la moto non sia tanto performante. Rasgatioglu è andato in BMW con un progetto evidentemente con garanzie tecniche di un certo livello, Rasgatioglu può essere comunque ancora uno dei favoriti al netto del mezzo. Chi secondo me può rilanciarsi è il cannibale Jonathan Ray che dopo un papato in Kawasaki si sposta in Yamaha ufficiale di conseguenza attenzione perché potrebbe essere colui che dopo Rasgatioglu può far tornare a vincere quella casa che comunque per quanto riguarda il team ufficiale ha avuto l'anno scorso quantomeno la miglior coppia per piazzamenti perché appunto Locatelli e Rasgatioglu erano comunque da primi 5 concostanza con Rasgatioglu con picchi di vittoria e Locatelli con picchi d'appoglio. Jonathan Ray dopo 120 vittorie in Superbike tutte con Kawasaki praticamente è andato a sostituire l'anziatore in Yamaha è una coppiata molto interessante e attenzione perché essendo la Yamaha una moto un po' più facile da guidare rispetto alle altre chissà che non possa essere il rilancio del cannibale che comunque seguirò anche quest'anno con molta attenzione. Tanti cambiamenti in ogni caso nei team ufficiali abbiamo parlato comunque dei big three di quelli che sono comunque i favoriti per vincere il titolo andiamo a parlare degli altri team ufficiali o comunque a completare quelli che abbiamo già introdotto. Partendo da Ducati che al posto di Michael Rinaldi schiera nel team ufficiale Nicolo Bullega campione del Mondo Supersport 2023 che comunque ha meritato la vittoria di quel campionato esattamente con Tima Ruba che è lo stesso che lo mette nella Ducati ufficiale. Nei test l'ha già fatto bene in parte di Montecco Emilia vedremo. Sono curioso di vedere come se la ciaverà Nicolo Bullega che nelle derivate della serie ha fatto sicuramente molto ma molto meglio rispetto al campionato di Moto3 Motodo dove è stato di fatto un non fattore. La BMW ufficiale invece conferma Michael van der Mark che di fatto è la seconda guida di top ragazza più o gloom. Michael van der Mark può portare comunque punti alla casa di Monaco nonostante gli infortuni. Sappiamo che l'olandese è molto accangenevole da quel punto di vista. Il team comunque più interessante rimane sempre Yamaha ufficiale dal mio punto di vista perché Andrè Locatelli è giustamente confermato nel team pata Yamaha che appunto è il team ufficiale. Comunque certo che Locatelli non è propriamente fortunato con pari di squadra proprio scomodi. Ne abbiamo prima Rasgatioglu adesso Jonathan Ray. Comunque Locatelli secondo me è un'arma che può essere utilizzata per dei podi e delle top 5 con costanza. Il team Cavazaki ufficiale invece di cui ne abbiamo ancora parlato di fatto da un certo punto di vista si indebullisce ma secondo me può puntare per il futuro. Non di certo con Alex Lowe che oramai è una fase evidentemente di scesa della carriera. Sicuramente Axel Bassani invece è molto più futuribile. Bassani dopo tre anni spettacolari in Ducati privata team motocorsa va evidentemente a fare il salto di qualità. Bassani è comunque un piatto giovane che può essere il futuro di questa nazionale italiana di superbike potremmo chiamarla così. E con la moto giusta può anche evidentemente puntare agli stati di un certo peso. Magari non a vincere subito ma magari top 5 qualche podio con costanza. Sono curioso di vedere Bassani come si comporterà in questa Cavazaki qualora poi la casa giapponese presenti una moto nuova con Bassani secondo me si può fare il bello e il cattivo tempo. L'ultimo team ufficiale invece è la Honda che comunque dei top 5 team ufficiali è l'ultimo. Coppia confermata comunque parliamo di Iker Lecuona e Xavi Vierge che di fatto hanno avuto un passato nel paddock dei prototipi quindi MotoGP e Moto2 con alterne fortune. In Superbike hanno fatto il loro Lecuona in realtà è più quotato rispetto a Vierge ha fatto dei podi però comunque è una coppia solida vedremo come si evolverà la nuova Fireblade per quanto riguarda il campionato Superbike 2023. Gli altri team li andiamo evidentemente a magnificare in ordine di come ce li presenta Wikipedia inglese che li ordina per costruttore. Il BMW Bonovo Racing Team ha di fatto il team clienti e conferma Garrett Gerlo il fiploitato texano che ha fatto vedere qualche sprazzo qui e lì dopo le ottime parentesi di Yamaha. È declinato in BMW è disceso molto e adesso punta evidentemente il rilancio rimane nello stesso team. Chi cambia team è Scott Redding che era il BMW ufficiale e viene di fatto declassato nel team clienti ma Redding può essere secondo me un pilota che può beneficiare del di fatto regolamento che impone un peso minimo moto pilota. Quindi attenzione al 45 non per la vittoria magari per qualche podio sicuramente per le posizioni che contano a mio modo di vedere. In Ducati abbiamo il team Barney Spark che conferma Danilo Petrucci dopo l'ottima stagione dello scorso anno esordisce il team Mark VDS Racing Team che ha avuto e ha tuttora comunque una storia in Moto2. E proprio dalla Moto2 arriva Sam Lowes il fratello gemello di Alex che comunque porta questa nuova Ducati in campionato Superbike. Lowes non ha mai corso nella classe regina ha vinto un mondiale super sport anni e anni fa per il resto una grande carriera in Moto2 e una brutta parentesi in MotoGP. Michael Rinaldi si sposta dal team ufficiale al team Motocorsa Racing di fatto Rinaldi va a sostituire Bassani dopo anni appunto nel team privato. Rinaldi può comunque secondo me in questo ambiente correre in maniera molto meno sentita con molta meno pressione e fare sicuramente delle prestazioni un po' all'altezza come ha fatto a tratti in Ducati ufficiale ma con risultati che evidentemente non ci hanno ribastati la riconferma al netto che Rinaldi comunque in Superbike ci può ampiamente stare. Il grande ritorno invece lo abbiamo sempre in Ducati e parliamo del team GoEleven è quello di Andrea Iannone quattro anni di squalifica per doping sono evidentemente terminati e il team GoEleven di Ducati ha scelto di puntare sul pilota di Vasto che ha avuto un grande passato in MotoGP vincendo anche delle gare appunto con la stessa Ducati. È un pilota che come talento non si discute sarà veramente interessante vederlo come si presenterà a Phillip Island tra una settimana nelle gare ufficiali dopo quattro anni di assenza e dopo soltanto pochi test con appunto le derivate dalla serie. Il team Honda, il team Mie di fatto cambia i piloti rispetto allo scorso anno vanno via Havid Siarin e Eric Granado vengono promossi di peso tutti quelli che erano in SuperSport perché vengono appunto messi in team ufficiale o meglio in team Mie Adam Norrodi in pilota marese e Terran Neckenzie pilota scozzese che ha avuto con lo stesso team Mie la grande impresa di vincere gara 2 di most in SuperSport mettendo di fatto le gomme d'asciutto su pista bagnata un pazzo furioso e alla fine evidentemente ha avuto ragione lui è stato l'unico lampo del team Mie che storicamente è sempre il peggiore sia in SuperSport sia in SuperBike. Il Kawasaki Team Puccetti presenta Tito Rabat confermato dopo la pagina dello scorso anno Rabat è un pilota che francamente non capisco come posso ancora trovare un sedile in qualche maniera perché i risultati non sono più quelli che furono da anni e anni fa. Ovviamente parliamo di un pilota campionato del mondo Moto2 quindi non l'ultimo dei fermi ma è evidente come lo spagnolo sia in fase discendente della carriera. Filippo Ettel passa da Ducati Team Go11 a GMT94 Team Yamaha che di fatto ha accantonato Lorenzo Baldassari rifinito in SuperSport confermato invece Bradley Ray pilota inglese che ha vinto il British Superbike nel 2022 rimane con Yamaha Moto X Racing e conferma anche per un altro dei team satelliti più competitivi ovvero quello GRT Yamaha con Dominic Gerter e Remy Gorner che con le moto corrette possono evidentemente puntare alla top 10 con una certa costanza. Questo era il numero dei partecipanti della Superbike ripeto ma anche il team Pedercini che dovrebbe correre alle gare europee e dovrebbe farlo con Isaac Vignales d'altronde c'è una partnership tra il papà di Isaac Vignales e appunto Lucio Pedercini owner del team di Kawasaki. Passiamo adesso però alla SuperSport una SuperSport che aumenta sempre di più i costruttori presenti in questa categoria una classe di mezzo che con l'ingresso di QJ Motor arriva a sette costruttori diversi. SuperSport che segue il stesso calendario della Superbike e a questo punto andiamo a vedere chi possono essere i papabili per il titolo sicuramente colui che è andato nel team Ducati Aruba parliamo del numero 99 Adrian Cuertas pilota spagnolo che ha vinto la SuperSport 300 qualche anno fa è salito in SuperSport 600 o Next Gen come dovremmo chiamarla perché vi ricordo che questa categoria di mezzo ha delle moto anche di centrale superiore alle 600 ma sono depotenziate. Vedi per esempio la Triumph, vedi per esempio la Ducati, vedi per esempio l'MV Augusta ma comunque Cuertas è sicuramente un pilota che può senza dubbio fare tanto tanto bene. Di know-how dovremmo mettere per titolo ovviamente anche Lorenzo Baldassarri che torna evidentemente in SuperSport dopo la parentesi in Superbike, in SuperSport Baldassarri ha dimostrato comunque di giocarsi le vittorie, di giocarsi i podi, arriva nel team Orlac Racing Ducati che appunto sostituisce Raffaele De Rosa con appunto Lorenzo Baldassarri. Gli altri piloti sicuramente da tenere d'occhio sono quelli del team Tenkat e uno su tutti Stefano Manzi che è il runner-up del campionato scorso, è arrivato seconda dietro Nicola Bulga e comunque ha tenuto testa anche al pilota di Montecchio per gran parte della stagione. Manzi è affiancato da Glenn Van Stralen che può essere la variabile impazzita. Altri piloti sicuramente da tenere d'occhio sono quelli del team Evan Bross o meglio quello del team Evan Bross perché dopo anni di piloti giovani evidentemente si punta a un pilota esperto, Valentin de Biso, pilota francese, passa da GMT 94 a Evan Bross. GMT 94 che peraltro prende un campione del mondo della SuperSport ovvero Lucas Maia che ha vinto il campionato della SuperSport nel 2017 contro il Re, contro Kenan Sofoglu. e adesso prova evidentemente a risollevarsi dopo un anno scorso dove appunto ha fatto parentesi nel team Puccetti tra SuperSport e SuperBike. Team Puccetti che secondo me ha un possibile candidato al titolo del mondo ed è il giapponese Gianonku che l'anno scorso di fatto lo ha saltato per gran parte della stagione per problemi di infortunio e quindi un Gianonku in pieno recupero e in piena forma può senza dubbio arrivare a competere sicuramente per il podio e chissà anche per qualcosa di più. Tuttavia ti andiamo a rivedere perché comunque abbiamo dei cambiamenti e delle nuove introduzioni a partire da Niccolò Antonelli che è stato un derelitto va detto della Moto3 e della Moto2 un pilota che è più un piazzato che un vincente arriva dopo è stato declassato nell'europeo Moto2 in SuperSport nel Team Altea Team Altea che appunto non dovrebbe avere grossissime ambizioni perché è un team che si è liberato di carica asulo e ha preso Antonelli e il giovane pilota polacco Piotr Birzinski che comunque ha avuto un passato nel Cev Moto2 Orge Navarro altro pilota che invece può essere comunque attenzionato passa di Team dal Tenkate Yamaha Racing Team va di fatto in Triumph nel Team VRP che appunto va a duplicare le Triumph presenti in pista il compagno di squadra è John McPhee pilota scozzese un grande esperto il team invece MVA questa ufficiale può essere un altro team invece dedicato al titolo o comunque al podio soprattutto con il giovane Bahattin Sofoglu pilota che è genio di sregolatezza di questa categoria un'altra che mi piace veramente tanto e che è confermato insieme a pilota Mazel Schroeter tedesco evidentemente con un grande passato in Moto2 il team Mie prende dei piloti che erano finiti a marcire da qualche parte in Moto3 e in Moto2 al secolo Kaito Toba giapponese che in realtà è molto più talentoso che il compagno di squadra che è Kairul Idam Paui pilota malese che vinse per sbaglio due anni fa o meglio mille anni fa delle gare sul bagnato e poi sparì lo ritroviamo in Supersport 600 il team di Davide Giuliano invece conferma in qualche modo Oliver Bayliss o meglio Ducati conferma Oliver Bayliss che passa evidentemente dal team Barney al team di Davide Giuliano Oliver Bayliss comunque è il figlio del leggendario Troy quindi va sempre seguito con grande attenzione il team Yamaha Thailand Racing Team conferma a Pwab Sarmono non ce la faccio direi me lo metterebbe scusatemi e poi abbiamo l'esordio assoluto di Gritta Pat, Cancum il team TFPTR invece conferma Andrej Vostetek dopo l'apprendimento dello scorso anno e ingaggia Tom Boothamos pilota inglese che ha avuto un buon passato in Supersport 300 abbiamo parlato di De Bees abbiamo parlato anche del team Barney Spark che appunto ha la moto anche in Supersport 600 e conferma in qualche modo Yari Montella altro pilota che può essere un grande outsider in questa stagione il compagno di squadra invece di Gianonco è il giapponese Ikario Kubo di ritorno dalla moto E Cari Casulo un pilota che ha avuto un grande passato in Supersport passa di fatto nel team MotoZo con MV Agusta quindi abbiamo tre MV Agusta in gara anziché le due dell'anno scorso Ducati diciamo ingaggia Nikituli con il team EAB Racing Team che cambia costruttore da Yamaha infatti passiamo evidentemente alla casa di Bologna con il finlandese uno dei piloti più istrionici del circuito il team WFT invece ingaggia Yerayu Ruiz che ha avuto un passato anche l'anno scorso in questa categoria gli altri piloti che vediamo sotto invece andranno a correre soltanto le gare europee e appunto menzioniamo la QJ Motor che è un costruttore cinese che esordisce appunto quest'anno in Supersport e lo fa con un pilota veterano ovvero Raffaele De Rosa che con l'MV Agusta ha fatto grandissime cose anche quello Ducati del team Orella che è arrivato a fare qualche podio De Rosa comunque sposa il progetto di QJ Motor a partire appunto dalle gare europee De Rosa lo vedremo evidentemente da marzo quando si correrà ad Aragon gli altri piloti che correranno le gare europee saranno l'italiano Gabriele Giannini, Federico Folligni, Simone Corsi che appunto è uno dei grandi veterani del motorsport e motociclistico italiano dopo un passato in Moto2 e qualche parente dell'anno scorso in Supersport concludono Luke Power e Tom Edwards, due piloti australiani ovviamente abbiamo tanti costruttori impegnati QJ Motor, MV Agusta con MotoZo di fatto è il compagno di squadra di Caricasulo Luke Power e anche il team di Davide Giuliano per non parlare di Orlac e l'esordiente team Renzi Corsi chiudiamo il nome delle tre categorie principali con la Supersport 300 che avrà anche in questo caso 8 round quest'anno la Superbike avrà un sacco di categorie di supporto appunto oltre la Supersport e la Supersport 300 avremo anche il mondiale femminile di cui però parleremo direttamente a Cremona qui parliamo invece della Supersport 300 che di fatto è equiparabile a una Moto3 dei prodotti che mi mancano molto più casino 8 round si correrà soltanto a Imola per quanto riguarda il nostro paese d'Italia si invece inizierà da Barcellona e non da Aragon come dicevo a marzo e si concluderà a Erez della Frontera l'ultimo round della stagione il 13 e 12 di ottobre i piloti che vediamo sono quelli che saranno impegnati per tutta la stagione la Supersport 300 ha cambiato il regolamento abbiamo infatti 30 piloti regolari e due wildcard è sempre un grande macello abbiamo quattro acquistatori impegnati tantissime Kawasaki due cove che raddoppiano l'impegno rispetto all'anno scorso confermando Mark Garcia che è campione del mondo del 2017 insieme a Julio Garcia Gonzalo il pilota spagnolo di grande talento è una Supersport che presenta due campioni del mondo in carica diciamo di questa categoria perché appunto Garcia vinse la stagione inaugurale nel 2017 Jeffrey Buis invece ha vinto due volte questo campionato l'anno scorso nel 2020 e appunto dopo anni in Kawasaki team MTM si sposta in KTM team Freudenberg dove appunto cercherà il 3-peat in questo campionato del mondo e veramente sarebbe già un unicum già il fatto che ne abbia 22 qualcosa di allucinante vincere 3 sarebbe qualcosa che lo consacrerebbe sempre di più nella leggenda il campionato di squadra di Buis è il tedesco Philipp Tone abbiamo comunque degli italiani molto competitivi a partire da Bruno Ieraci che l'abbiamo visto l'anno scorso vincere due gare da wildcard a Misano dopo aver fatto di fatto il passo indietro nel CIV torna in piatta stabile nel team Prodina in pianta mondiale insieme all'esordiente Giacomo Zannini gli altri italiani da tenere d'occhio sono sicuramente Mirko Gennai che ha avuto una grande stagione l'anno scorso e può essere un candidato al titolo insieme evidentemente a Buis a Garcia e anche ad altri piloti che adesso vedremo sicuramente al suo campionato di squadra Loris Veneman altro pilota che ha fatto molto bene l'anno scorso che può ripuntare al titolo è Petro Svoboda che in realtà l'ha perso l'anno scorso ma comunque può fare sicuramente bene tutti gli altri sono delle grandi minevaganti a partire per esempio da Matteo Vannucci che è stato uno degli italiani che ha vinto le categorie appunto delle gare in questa categoria Super Sport 300 Samuel Di Sorà altro pilota esperto insomma è uno Super Sport 300 che sarà un macello che presenta esperti presenta evidentemente esordienti 30 piloti pronti in la sua battaglia per 4 costruttori altro nome importante sicuramente Elia Bartolini che ha avuto un passato con QJ Motor in Moto3 e adesso fa il salto di fatto in Super Sport 300 con una Yamaha del team Moto X Racing che appunto peraltro ingaggia Emiliano Nercolani che ha vinto l'R3 Cup di Yamaha e quindi altro pilota da tenere d'occhi insomma c'è tanta carne al fuoco in questa Super Sport 300 che comunque però aprirà battente soltanto a marzo a febbraio noi ci concentreremo sulla Super Bike con questi 23 piloti pronti in la sua battaglia a Phillip Island e ovviamente uscirà il Racing Sport dedicato per quanto riguarda la stessa domenica parleremo dunque del 25 di febbraio i prossimi appuntamenti invece in analisi sportiva saranno il 22 di febbraio con il Baseball MLB dove faremo un recap del mercato fino a questo momento in attesa della stagione regolare che partirà appunto a marzo il 25 di febbraio parleremo della Formula 1 che tra due settimane appunto correrà in Bahrain e poi il 26 di febbraio il Racing Sport per quanto riguarda la Super Bike il saluto da parte di MyTutorgard ci vediamo al prossimo video